Ciao amici pedalando, sono arrivato a Modena. Alle mie spalle il palazzo della droga, l'hotel Eroina. Questo è il parco 22 Aprile, la piazza principale dello spaccio in città. Questo parco è invaso dagli spacciatori 24 ore su 24. Un problema di sicurezza e degrado per i residenti di queste zone. Nelle vicinanze del parco vengo addescato in pieno giorno da un venditore di morte. Questa gente rovina la vita a tantissimi giovani. Ma è verso sera che il parco si popola e diventa il mercato della droga a cielo aperto. Qui si può trovare erba, fumo e cocaina. Chiedo dagli spacciatori come va l'attività, ma veniamo inseguiti. Quanto si spaccia in questo parco? Ebbene sì, anche a Modena abbiamo un fortissimo problema di spaccio. Ok, mi fermo qui, anche se potevo andare avanti per diversi minuti. Ovviamente quella che ho fatto è una ricostruzione, ma riavvolgo il nastro insieme a voi per analizzare come ho affrontato un argomento molto complesso. Ciao amici, pedalando sono arrivato a Modena. Alle mie spalle il palazzo della droga, l'hotel Eroina. Qui sto affrontando un tema molto complesso come quello della droga facendo intrattenimento, ma andiamo avanti in questa analisi. Questo è il parco 22 Aprile, la piazza principale dello spaccio in città. Qui punto la tua attenzione solo sugli spacciatori, senza parlare degli utilizzatori finali, cioè i tossicondipendenti o molto più semplicemente i drogati. Solo nel 2019 in Italia è aumentata la cocaina sequestrata e fra i giovani è aumentato il consumo di droghe sintetiche. Questo significa che c'è un'altissima domanda di stupefacenti presente in numerose città italiane. Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio sono le regioni con i tassi più elevati di persone con problemi di droga in trattamento. Ora faccio un passaggio sull'elemento negativo di questa narrazione, lo spacciatore. Nelle vicinanze del parco vengo addescato in pieno giorno da un venditore di morte. Questa gente rovina la vita tantissimi giovani. Qui ti sto facendo vedere uno spacciatore di strada, molto spesso sono stranieri, ultimo anello di una filiera molto complessa. Una filiera che vede attive numerose organizzazioni criminali nazionali e internazionali. Esistono però anche tantissimi spacciatori insospettabili, ma ben inseriti nella società. Questi non si vedono per strada, ma ci sono e sono tanti. Poi arrivo alla zona, alla piazza dello spaccio. Fate attenzione alle parole che utilizzo. Questo parco è invaso dagli spacciatori 24 ore su 24. Un problema di sicurezza e degrado per i residenti di queste zone. C'è un degrado visibile, ma soprattutto c'è un degrado e un malessere sociale dietro al consumo di droghe. La relazione del Ministero dell'Interno spiega che i consumatori di cocaina coloridrato, cioè che sniffano le sostanze in polvere, sono maggiormente integrati nel tessuto sociale, mentre chi fuma la cocaina in forma di crack è un consumatore marginato. Sono due problemi complementari e sta crescendo la richiesta di chi ordina la droga su internet, che magari potrebbe essere il vicino della porta accanto, un tuo parente o un tuo amico. Ma qual è l'identikit della domanda? Al di là dei contesti socioculturali, molte persone utilizzano gli stupefacenti come regolatori emotivi. La cannabis ha funzioni ansiolitiche. La cocaina permette di dare uno stop ai sentimenti e alle sensazioni. L'eroina amplifica enormemente le sensazioni di benessere. C'è un consumo di droga che non si vede, ma che esiste, una zona d'ombra in cui si muovono in tanti. In conclusione con questo video ho cercato di spiegare molto brevemente alcuni dei meccanismi narrativi che vengono usati, molto spesso per raccontare tematiche molto complesse come quella della droga, per ridurre tutto a semplice intertenimento. Grazie per aver visto questo video.